Ciao a tutti, oggi faremo un gioco che si chiama Who is most likely to? Abbiamo dei fogli con i nomi di tutti Io leggerò delle frasi E indicheremo chi secondo noi è più portato a fare queste cose Chi è più portato a dimenticarsi un compleanno? Ah, lo sappiamo! Sei bugiardo, eh! Chi è più portato ad addormentarsi? Ah, lo sappiamo! Scordato! Scordatissimo! Dai! Esatto! Anche giusto da fare! Non ho mai chiedere di dire questo momento Chi è più portato a cadere mentre cammina? Non c'è in bici! Chi è più portato a fare lo stalker? Ok! Cominciamo lo stalker? Fuori c'è il sole e domani pioverà! Sotto al soli, sotto al soli! Dimmi giorno, dimmi giorno! Chi è più portato a spendere i soldi per cantate? Pizza e Luca? No, non ti mettermi insieme, tra uno o l'altro No, c'è due Perché io, scusate Perché ha preso una taglia e non si fa un pesto Tutti pizza da nessuno Chi sarebbe il primo a morire in un'apocalisse di zombie? No, non lo so, stai Al contrario Grazie ragazzi, grazie Thomas Ok No, pizza guarda troppi fini di fare sta scena Chi è più importato a spedeggiare in pubblico? Vabbè, questa è semplicissima Aspetta, questa è più semplice che... Questa è semplice, questa è veramente semplice Chi è il più impaziente? Vabbè, questo ce n'è solo uno ragazzi Chi è più probabile che muoia in qualcosa di stupido? In qualcosa di stupida Non lo so, sai? Sì, sì Chi è più portato a vivere in un paese straniero? Chi è più portato a vivere in un paese straniero? Sì, in effetti, sì Mi viene in mente Thomas ci ha rinunciato Comunque per tutti i miei si vedono in un bel ascello Quindi, meno male che non si può portare a vivere in un paese straniero Chi è più portato a vivere in un paese straniero? Chi è più portato a vivere in un paese straniero? Chi è più portato a vivere in un paese straniero? Chi è più portato a vivere in un paese straniero? Sì, l'errore Sì, da quello che ci avevo raccontato prima Eh, l'errore Oh, all'innalizia Che è più probabile che faccia un filthorno? Ce l'ho Ce l'ho Io non saprei Dov'è, dov'è? Perché? No Perché Luca? Chi è il più portato a tradire i propri amici? Pizzaro! Ma Luca, non c'è nessuno! Ah, siamo tutti lì! Luca no! Mi dispiace abbastanza! Ma neanche io c'è nessuno! Massimo da lontano! Ah, bravo! Chi è il più portato a spendere più soldi per le scatte? Se lo fai le scatte per le stifiche Perchè fa' cagare, ce l'ho! Ah, non basta! Fate personalizzate in internet! Orrende! Chi è il più portato a ballare in pubblico? Ah, più portato? Ballare in pubblico! Non so che, non so come balla! È Luca, è Luca! Vabbè, chi quando... Balli bene? No! No! Vattro mia pena! Salute. Then... Grazie a tutti.